Ora passiamo a gioco lungo, iniziamo dal grip che sarebbe l'impugnatura, vedete Carlo sta facendovi vedere dove va a posizionarsi il bastone nella mano sinistra, qual è il contatto tra il bastone e la mano sinistra, dalla prima falange fino alla linea della testa, la mano sinistra deve avere questa posizione se vista frontalmente, vedete il pollice della mano sinistra che è leggermente a destra del centro del bastone, il giocatore senza muovere la testa deve riuscire a vedere le prime due nocche della mano, la mano destra invece va a coprire il pollice della mano sinistra, l'aderenza sul bastone della mano destra non è più sul palmo come la mano sinistra ma è più sulle dita, diciamo alla radice delle dita, vedete la V formata dall'indice e dal pollice della mano destra va tra il mento e la spalla destra del giocatore, vedete i due palmi sono contrapposti tra loro, ci sono tre tipi di grip diversi, il grip che Carlo vi sta facendo vedere si chiama overlap nel quale il mignolo della mano destra si sovrappone all'indice, alla nocca dell'indice della mano sinistra, questo è il grip usato dalla stragrande maggioranza dei giocatori per il gioco lungo, i giocatori principianti e soprattutto le donne invece alle volte usano questo grip che si chiama baseball nel quale tutte le dieci dita sono in aderenza al bastone, le mani sono vicine tra loro, questo grip dà un pochino più di forza al giocatore debole, al ragazzino o alla signora con poca forza nelle mani. Passiamo al grip invece adottato da tanti campioni ma soprattutto da giocatori che hanno le mani e soprattutto le dita molto corte, si chiama interlock e a differenza dell'overlap dove il mignolo della mano destra si sovrappone all'indice della mano sinistra e questa volta invece si incrociano le due dita in modo da avere un'impugnatura più salda e le due mani molto più aderenti tra loro. Facciamo vedere anche il grip consigliato per il pat che si chiama il grip consigliato per il pat che si chiama reverse overlap nel quale il dito che si sovrappone alla mano è l'indice della mano sinistra che si sovrappone alle dita della mano destra le quali sono tutte in aderenza al bastone. In questo caso tutta la mano destra è a contatto col bastone a differenza della mano sinistra. Questo grip è consigliato per il pat perché dà meno mobilità alle mani e ai polsi e garantisce un movimento attraverso la palla più fermo con le mani.